La squadra mobile e il commissariato di Gela hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal GIP nel corso delle indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta nei confronti di cinque gelesi accusati di tentata estorsione e lesioni gravi. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno avuto avvio lo scorso mese di febbraio allorquando la Polizia di Stato ha appreso che un imprenditore, titolare di una rivendita di fiori ubicata nei pressi del cimitero Farello di Gela, alcuni mesi prima sarebbe stato avvicinato da un uomo il quale, in concorso con altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della stida gelese, avrebbe avanzato alcune richieste estorsive volte a creare un vantaggio alla propria attività commerciale attiva nel medesimo settore merceologico. La vittima avrebbe subito una serie di atti intimidatori culminati in una vera e propria spedizione punitiva concretizzatasi nel pestaggio dell'imprenditore e di alcuni suoi familiari i quali avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche. Nel corso dell'aggressione, che sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'attività commerciale della vittima, uno degli indagati, presentandosi come figlio di un boss mafioso, avrebbe richiesto il pagamento mensile di una consistente somma come presupposto per poter proseguire l'attività di commercio dei fiori. Nel corso delle indagini sarebbero emersi molteplici riscontri oggettivi in ordine alle contestazioni mosse agli indagati e giudicati sussistenti gravi indizi di colpevolezza dal giudice per le indagini preliminari, sono state emesse le misure cautelari sopracitate.